Io sono Maurizio Carucci e sono un contadino ormai da diversi anni e la nostra attività agricola, mia e dalla mia compagna che si chiama Martina Pannarese, è in Val Borbera che è una valle incugnata nell'Appennino Ligure Piemontese una valle molto selvatica che in alcuni punti addirittura fa provincia con quattro località differenti e insieme alla mia compagna abbiamo creato questo progetto stiamo sviluppandolo che si chiama Cascina Barbano un progetto agricolo ampio contadino e in questo progetto che poi è un'azienda agricola coltiviamo cereali, vino e ortaggi predirigendo le varietà storiche ma le varietà storiche di sementi cioè per cui piante non commerciali non tanto per un sentimento nostalgico o perché abbiamo delle manie o collezionismi vari ma perché semplicemente ci sembrano più idonee al contesto in cui siamo cioè sono sementi che in qualche modo nel nostro contesto si comportano meglio e ci danno più frutti e più soddisfazioni per esempio coltiviamo un fagiolo che si chiama fagiolana bianca di figino che è una varietà di fagiolo della famiglia dell'Ispagna molto interessante, che ha degli aromi è una vigoria davvero interessante per i cereali per esempio invece coltiviamo popolazioni che sono un insieme di varietà insieme coltivate insieme grazie alle quali a livello agronomico si aiutano ma poi anche a livello aromatico crediamo che diano dei frutti interessanti sulla vite stiamo ragionando su alcune varietà di bianco e di rosso in collaborazione con il CNR per cui il nostro è un progetto non industriale evidentemente è un progetto contadino contadino perché? perché non usiamo sementi OGM e non poniamo nello sviluppo di queste sementi nessuna fiducia perché rinnoviamo, conserviamo, preserviamo la biodiversità che non è solo al passato ma deve essere anche un futuro dobbiamo noi essere artefici di questa biodiversità non soltanto pensare alle sementi storiche, alle tradizioni ma dobbiamo in qualche modo cominciare a farle noi di nuovo queste tradizioni un progetto contadino perché non prevede l'uso di salariati se non quella del nucleo familiare o al massimo di un salariato magari stagionale e perché fondamentalmente basa il proprio commercio sulla vendita diretta o al massimo con un intermediario ecco queste sono le caratteristiche un po' dell'agricoltura contadina in Italia da cinque anni a questa parte una serie di organizzazioni, associazioni contadine italiane si sono unite cinque anni fa e hanno fondato questa iniziativa che è la Campania per l'agricoltura contadina ovvero un percorso che tende al riconoscimento a livello normativo giuridico della figura del contadino che è un'altra cosa rispetto al coltivatore agroindustriale che fa monoculture e che magari vende la GDO ma per carità non esprimiamo nessun tipo di giudizio siamo semplicemente un'altra cosa che ci piacerebbe e lavoriamo affinché ci siano delle norme dedicate che non sono né deroghe né permessi delle norme dedicate perché è evidente che è un mestiere un po' diverso chiudo in relazione all'Expo 2015 noi crediamo che sia una grandissima occasione persa perché ci sarebbe piaciuto ci piacerebbe e crediamo che sia fortemente utile sarebbe stato creare un percorso dove è di indagine, di ricerca sulla sovranità alimentare magari diffuso nelle cascine nelle città sì ma anche nelle cascine dove ci sono gli attori coloro che concretamente fanno cibo purtroppo così non è anzi sembra quasi uno spettacolo una fiera come molte altre sul cibo dove a sostenerlo c'è Mc Donald c'è la Coca Cola Company c'è la Nestlé e allora insomma quando si parla di cibo di sovranità alimentare ci sono questi grandi marchi che sono delle industrie e danno semplicemente degli obiettivi diversi rispetto alla qualità dei prodotti insomma è una cosa che purtroppo ci fa un po' soffrire ma ovviamente abbiamo le spalle larghe e continueremo il nostro cammino per chi volesse avere delle informazioni in più abbiamo un sito che si chiama agricolturacontadina.org e ringrazio Expo dei Popoli per averci invitato e sarà lunga ma da qualche parte arriveremo grazie grazie a tutti grazie a tutti